Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo prossimo video, sono Michele Zappo e oggi faremo il Draw My Life, cioè disegneremo la propria vita. Buona visione, eh, presentati, scusate, presentati Ale. Ciao a tutti ragazzi, io sono Alessandro, il rompiscatole. Ok, iniziamo il video. Ecco qua, eh, ragazzi, guardate, eh, quello è lo sgarrocchio, guardate, ragazzi, guardate, le coramelle stupide, ecco, caluse, finiscila, il Draw My Life mio. Nasco, nasco, nasco il 18, nasco il 18 luglio 2011, alle ore mezzogiorno e cinque, questo sono io da piccolo. Poi qua, c'è scritto, ed è nato il primo ottobre 2012, mio fratello. Qua. Il primo anno sono all'Asilor, no, non volevo, non volevo andarci. Sì, ecco qui c'è il mio ritratto, con questa faccia, tan tan tan, poi qua, quando tornavo da scuola, pensai perché i miei amici mi prendevano in giro? Qua dico perché, qua dico nella nuvoletta perché mi prendono in giro? E poi qua, il secondo anno andò un po' meglio, prendevo bei voti, non in tutte le materie, cioè questo qua, questo sono io che ho preso un bel voto, e qua un bel, e qua un brutto brutto. Poi, mi sono imbattuto YouTube, e questa è la scrittura di YouTube, ok, fine. Spero che, spero che questo video vi sia piaciuto, mettete un pallice in su, e a cento, mila like, uscirà un nuovo video, ok? E ciao da Michele e da, e da Alessandro Rompiscatole, ok? Ciao! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!